Alleluia Il Signore sia con te e con il tuo spirito. Gloria a te, Signore. 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 Gloria a te. Gloria a te, Signore. Gloria, Gloria. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. come si è venuto e il mio marito mi ha detto oi non ne vedi al cammino per i stessi che non mi piace se ne ti amo ma da ma di un modo nero di essere che si quando è operato che mi piacerebbe che ci sono noi già mi hai partito che non si può non mi viene o che mi hai Ma la risposta di Gesù è vita. E' un po' solo di disperare, che è, ma è. Che cosa dice Gesù? Gli abbandoni sono quelli di molti risorti, ma di poco è una persona fatta una vita. La domanda di Gesù è un po' interrogativo che è un po' risposta da un mani di là, alla risposta della verità, del senso della vita, quindi di Dio, di colui che è solo la verità di Dio. Giovanni dice che era considerato sempre nel primo piano della professione della religione di Miserica. E' l'uomo che non è un piano, che non è stato da un bel piano, l'uomo che non è stato da un bel piano, ma lo è un po' più ottimo, e più ottimo profilo di Misericordia, e più grande traduzione anche in due. Il nostro dubbio è un po' di razza per non trovare una partista. Ma ci chiediamo, Gesù, la vita che ci svegliamo nel nostro nome? Per rispondere, dobbiamo parlare su questo nome e soffrire i esempi incompatibili della sua presenza. Noi, qui abbiamo finito il nostro vero e la vostra, anche se diventiamo delle idee diverse e di diversa connessione sociale, dobbiamo arriccharci. Amici, non per essere segni della presenza di te che ci sono noi, ma dobbiamo aiutarci soprattutto di un campo e annunciando al primo quel messaggio che ci sono, all'annunciato che ci sono. Abbiamo avuto un luogo in grado per tutti i quali. Amore. Grazie.